Se vuoi la base senza le tacche di silenzio, chiama il numero 391 415 70 28. Qualsiasi altra tonalità è realizzabile senza perdita di qualità. Qualsiasi altra tonalità è realizzabile. Qualsiasi altra tonalità è realizzabile. Qualsiasi altra tonalità è realizzabile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.